allora buongiorno a tutti e oggi sono particolarmente arrabbiato perché mi è successo un fatto veramente molto grave e volevo condividere questa cosa con voi allora è successo questo allora praticamente io sono molto attivo su tiktok e avevo fatto un video sulle saghe che non volevo più leggere e tra queste c'era anche la saga di Percy Jackson, non la prima saga, gli eroi dell'olimpo e avevo detto praticamente che non ero interessato a proseguire, ad andare avanti eccetera siccome molte persone sono un po' indignate di questa cosa ho voluto fare un video dove spiegavo esattamente come stavano le cose ovvero che un lettore può cambiare gusti magari prima leggeva, che ne so, gialli come nel mio caso adesso non li legge più prima leggeva classici, adesso magari legge fantasy ci sono dei generi che personalmente non mi interessano come per esempio i thriller ma questo non vuol dire che comunque siano dei brutti libri solamente che per mio gusto personale, per il mio modo di vedere la lettura e insomma quello che volete voi alcuni generi non mi piacciono, è tutto molto legittimo il punto è che al posto di scrivere Percy ho scritto Percy con la E e allora ho detto bene, adesso sapete che fa Ruby? ma se va a comprare il primo romanzo degli eroi dell'olimpo e se lo legge per punizione perché la prossima volta deve imparare a rivedere 300 volte quello che sta scrivendo benissimo ieri praticamente ho fatto un giro a Piacenza perché insomma era da un po' di tempo che era da un po' di tempo che praticamente non ci andavo e ho visto il volume a Piacenza praticamente c'è solamente la Feltrinelli aveva aperto anche la Giunti ma non ci sono andato e c'è la Mondadori allora ho detto vado alla Giunti perché la Giunti è l'unica che ha praticamente ancora la tessera attiva dei punti mentre la Feltrinelli e la tessera serve solo ed esclusivamente per le novità e per ricevere il 5% di sconto lì la tessera è rimasta attiva lì è al libraccio solo che la differenza è che il libraccio devi comprare solamente l'usato sul nuovo non lo possono fare io questa cosa sinceramente non l'ho mai capita questa politica sta di fatto che al momento raggiunti è l'unica che fa i punti io non è che compro tantissimo come prima perché comunque questa legge mi ha tagliato le gambe nel senso che prima riuscivo a comprarmi massimo 3 libri al mese adesso con il 5% ne compro uno massimo due e sono anche molto selettivo quindi cosa succede che io mi compro un libro al mese prima ripiegavo sugli ebook adesso gli ebook hanno dei prezzi veramente allucinanti sta di fatto che siamo un po' tutti nella merda ok per quanto riguarda i libri benissimo però a me conviene fare questa cosa perché comunque insomma quando arrivi a 36 punti ti danno se non sbaglio 3 euro o 5 euro di sconto comunque a seconda dei punti che arrivi cioè del traguardo raggiunto ti danno dei punti cioè ti danno degli sconti benissimo sta di fatto che io ieri vabbè faccio un caldo al suolo ho fatto un giro sono tornato a casa sono passato da Lodi che praticamente diciamo che si può prendere l'autostrada da Pavia per arrivare a Piacenza io me la sono presa comoda insomma con l'aria condizionata poi a me piace guidare insomma eccetera benissimo vado a Lodi a Lodi c'è la Giunti solo che la Giunti non ce l'aveva aveva il secondo il terzo il quarto era inutile andare a chiedere alla tizia guardi me lo ordina perché tanto non me ne importava allora ho detto visto che sto tornando a Pavia e visto che comunque erano le 5 mi fermo alla Giunti di Pavia a Pavia ce ne sono due una è qua al Carrefour di Pavia e l'altra è a San Martino Siccomario che è praticamente un paesino vicino a Pavia insomma quindi io sono andato al Carrefour benissimo la Giunti spesso e volentieri fa delle iniziative delle quali io onestamente non sono d'accordo ok qual è questa iniziativa? voi comprate un libro e il libro viene donato all'ospedale oppure alla biblioteca della tal scuola ecco io su questa politica non sono d'accordo per quale motivo perché se io voglio fare una donazione cioè io voglio vendere cioè voglio donare questo paio di pantaloni non è che vengo a dire a voi ragazzi questo verrà donato a il signor X compratelo a 2 euro poi io ci metto un bigliettino vicino che ho scritto questo pantalone te lo dona a Pinco Pallo ecco se io voglio dare effettivamente questo paio di pantaloni a qualcuno glielo do gratuitamente senza lucrarci sopra quindi io trovo la cosa abbastanza imbarazzante ok benissimo però voglio dire politica aziendale bla 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 tutto quello che volete voi benissimo nel momento nel momento in cui però io entro comprendo il libro mi avvicino la cassa lei fa la solita tiritiera e io dico no al momento non posso cosa fa la commessa la commessa praticamente si permette di farmi una battutina molto squallida onestamente perché mi ha dato dello scrawge quindi il sottotesto è una persona molto tirchia questo è il sottotesto al che io ho pagato non l'ho neanche salutata sono uscito e ho detto questa non gliela faccio passare perché questa è una mancanza di rispetto nei miei confronti come cliente che viene qua da anni al che io sono entrato e l'ho praticamente sbranata come farebbe sersi praticamente come farebbe un leone perché non esiste che tu manchi di rispetto così ad una persona non esiste che tu innanzitutto ti rivolga a me con il tu primo perché io non sono tuo amico io non sono il tuo confidente io non sono tuo fratello sono un cliente mi devi dare del lei in primis seconda cosa non ti devi assolutamente permettere di giudicarmi se io non voglio aderire alla tua iniziativa se io voglio aderire aderisco se io non voglio aderire innanzitutto io non devo dare spiegazioni a nessuno perché non sta scritto da nessuna parte che io debba dare spiegazioni su come gestisco i miei soldi e quanti soldi io ho nel mio stramaledetto portafoglio seconda cosa se tu sei una persona professionale se tu sei una persona che comunque in quel momento sta lavorando ti prendi il tuo commento e te lo metti in tasca per non dire in altri posti io ho trovato veramente questa cosa molto grave tra l'altro io ne farò presente anche alla referente perché so chi è visto che come vi ho detto sono anni che vado in quel posto cioè in quel posto alla giunti e quindi so benissimo chi è e farò presente questa cosa perché non esiste che una persona si comporti in questa maniera non esiste che una persona manchi di rispetto io ho fatto un video su tiktok e praticamente molte persone hanno riscontrato il mio stesso problema nel senso che sono state giudicate perché non hanno aderito a quell'iniziativa tra l'altro una ragazza mi ha anche scritto che praticamente lei è stata trattenuta cioè lei ha detto di no e praticamente non volevano farla andare via gente ma ci rendiamo conto cioè io posso capire l'insistenza che magari l'azienda ti dice tu insisti perché insomma ci dobbiamo levar sti libri dalle palle perché fondamentalmente sono libri che loro non vendono allora o volente o nolente no vogliono sbolognare benissimo però ripeto se vuoi fare una cosa bella prendi quei libri e glieli doni tu giunti al punto che sei una multinazionale che sei una casa editrice ok non ti fai bello con i soldi degli altri benissimo quindi io ho trovato questa cosa veramente molto grave ho trovato veramente questa cosa molto molto disgustosa e ripeto ok insistere quindi l'azienda ti dice insisti perché noi dobbiamo insomma sbolognare questi cosi ma non esiste questi libri ma non esiste che tu giudichi il cliente se non vuoi aderire a questa cosa io ho trovato questa cosa veramente molto molto grave e veramente molto molto allucinante e non ci rendiamo conto di un fatto che molti esercenti non si rendono conto che il cliente deve essere trattato con una certa un certo riguardo con riguardo non vuol dire che io quando entro in libreria mi devi mettere il tappeto rosso e darmi le bollicine nel flute non intendo quello intendo essere trattato con rispetto e con educazione tra l'altro io quando sono andato una mattina praticamente la mattina loro devono fare 3000 cose il pomeriggio è un po' più soft la mattina è dove c'è il più del lavoro e molto spesso sono da sole perché insomma sono lì da sole e quindi devono fare 3000 cose tra cui gli scatoloni tra cui i pacchi amazon poi il cliente poi magari c'è qualcuno che ti chiede il determinato libro quindi devono fare 3000 cose io una mattina sono andato stavo cercando un libro l'ho trovato mi sono avvicinato alla cassa e lei stava facendo il suo lavoro e io ho aspettato 10 minuti dopo aver aspettato 10 minuti lei se ne accorta che io ero alla cassa e mi ha detto ah mi scusi non l'avevo vista io ho detto guardi ci mancherebbe io capisco che lei sta lavorando che non è qua per fare le costine alla griglia sta lavorando deve fare 3000 cose quindi io non ho fretta e posso aspettare benissimo cosa potevo fare dovevo imbeire cioè dire oh muoviti perché io ho fretta lei cosa sta facendo di qua di là no io capisco benissimo che lei sta lavorando io porto rispetto alle persone che lavorano e quando io sono e pretendo lo stesso rispetto ok cioè non esiste che tu mi debba giudicare non esiste che tu mi debba comunque trattare in questa maniera molti esercenti soprattutto anche molti ristoratori soprattutto non capiscono che il cliente come vi ho detto prima non è che deve essere trattato con i guanti d'oro perché il cliente non è vero che ha sempre ragione ci sono dei casi dove il cliente non ha ragione ok benissimo molte persone cosa hanno fatto hanno detto sotto sto mio video che alla giugno tutti non ci vanno più giustamente perché se tu mi tratti a pesci in faccia e io mi devo sentire giudicato dai soldi che ho nel portafoglio quanto posso spendere e devo dare anche delle giustificazioni che non esiste non esiste perché io ho 8 soldi nel portafoglio e è una violazione anche della privacy onestamente ma come ti permetti primo e lì non ci vanno più quindi tu perdi un cliente se il cliente non viene trattato con rispetto ed educazione come lo è stato nel mio caso i soldi li va a portare da qualcun altro e vi devo dire la verità io ho interesse ad andare alla giunti perché comunque ripeto la giunti è l'unica che mantiene insomma questa cosa del punti ma se non se non avesse avuto questa cosa probabilmente avrei fatto anch'io come le altre persone io lì non ci sarei andato più perché è inconcepibile una mancanza di rispetto in questa maniera io non sono d'accordo con il tu ok perché se io sono cliente qualsiasi te io abbia posso avere 12 anni 12 anni no però posso avere 20 anni posso avere che ne so 50 anni o posso avere 80 anni tu a me il tu non lo dai ok tu ti rivolgi a me dicendo buongiorno buonasera buonanotte arrivederci ok un ragazzo su instagram mi ha scritto e detto che praticamente le aziende io non so se questa cosa è vera onestamente se è vera fatemelo sapere praticamente loro dicono di dare del tu al cliente per creare una certa familiarità ecco per sentirsi un po' familiari per creare una sorta di che ne so empatia boh non lo so comunque è una cosa che l'azienda ti dice di fare io onestamente non sono d'accordo perché ripeto se io mi devo approcciare ad una persona che lavora qualsiasi età è sabbia io dico buongiorno salve arrivederci buonanotte non mi permetto di dire ciao perché io sono una persona rispettosa il tu deve essere una cosa concordata nei momenti in cui io che ne so vado dal fisioterapista e il fisioterapista vedo che ha 25 anni magari posso concordare e dire se vuoi ci diamo del tu allora tu concordi con il professionista in caso specifico il fisioterapista e ci diamo del tu ma è una cosa concordata non esiste che io mi rivolga ad un cliente qualsiasi età esso abbia con il tu perché è una mancanza di rispetto ripeto su questa cosa io posso anche sorvolare e posso anche passare anche perché io quando lavoro cerco di essere sempre molto ligio al dovere e tra l'altro io non do confidenza a nessuno vabbè e non mi sono mai permesso di dire al parente dell'ospite ciao una cosa che non esiste proprio sulla faccia della terra passi questa cosa ma non passi il fatto che molte persone si debbano sentire giudicate del fatto che io non faccio quella determinazione altra cosa o non faccio quell'opera di bene come ha detto giustamente una ragazza si potrebbe mettere un salbadanaio alla cassa e a discrezione del cliente può mettere la moneta che vuole può mettere un euro può mettere due euro come molto spesso fa il mcdonald adesso non so se fa ancora questa cosa al mcdonald perché io non ci vado più comunque mi ricordo che quelle volte in cui sono andato lui praticamente aveva questa cassettina che poi tra l'altro era anche trasparente e poteva anche evitare onestamente però diciamo che a mia discrezione col resto che ne so ho un euro di resto due euro di resto lo posso tranquillamente donare ma è una scelta che faccio io ok anche perché tu potresti mettere in imbarazzo la persona non siamo tutti uguali a me non me ne frega niente molte persone mi hanno scritto anche che si sono sentite in imbarazzo nei momenti in cui tu chiedi spudoratamente così dei soldi cioè magari potresti scrivere un cartello magari sul vetro perché adesso per le nuove disposizioni loro hanno il vetro cosa che prima non avevano puoi scrivere un cartello con scritto vuoi donare un libro alla biblioteca lo puoi comprare punto così nessuno ti giudica perché giudicare una persona sulla base di quanto può spendere o di quanti soldi lui abbia nel portafoglio lui lei esso o chi che sia è una cosa veramente squallida se io non posso fare quella cosa innanzitutto non devo dare giustificazioni a te perché non sta scritto a nessuna parte secondo non vuol dire che io sono una pessima persona posso abbracciare anche altre cause posso dare i miei soldi al canile posso dare i miei soldi al banco alimentare posso dare i miei soldi per la salvaguardia dello scioglimento dei ghiacci sono fatti i miei come sono fatti i miei quelli che ho nel portafoglio io questa cosa non la faccio passare perché ieri veramente io l'ho sbranata perché io non mi ergo a paladino dell'educazione perché rubi lungi da me lungi da me esserlo ma nel momento in cui io mi approccio a qualcuno che sta lavorando e viceversa come io rispetto per te che stai lavorando e non mi sono mai permesso mai quando tu stai facendo altre cose di dire muoviti sbrigati perché io ho fretta io non mi sono mai permesso di fare una cosa del genere tu mi devi rispettare non esiste che a mezza bocca perché con le orecchie che ho guardate a me non sfugge mai niente perché rubi non è nato ieri a me non sfugge niente non ti permetti di dire una roba del genere se avete avuto un'esperienza del genere in qualsiasi settore in qualsiasi campo non fate passare liscia questa cosa perché se la fate passare liscia vuol dire che lei si eroga il diritto di giudicare altra gente quindi se a voi è capitato o capiterà una roba del genere non fate come ha fatto rubi che se l'è sbranata perché a me poi parte l'embolo quando vedo cose del genere parte l'embolo e sragiono voi fate presente anche se vi guardano male perché solitamente qui ci sono state le parole ad altre persone invece sono state delle occhiatacce nel momento in cui vedete che la cassiera vi guarda storto voi dite c'è qualche problema possiamo risolverlo così vedete cosa vi risponde poi andate da chi di dovere dal referente se sapete chi è e fate presente questa cosa perché già è tanto il fatto che tu sei lì a lavorare perché con la situazione odierna tesoro mio lavorare è diventato quasi un privilegio cerca di tenertelo questo lavoro cerca di fare di fare il tuo lavoro con con professionalità perché non esiste che tu davanti a un cliente soprattutto a una persona molto più vecchia di te perché voglio dire lei avrebbe avuto 23 anni perché era giovane poi magari aveva la mia testa e li portava bene non lo so sta di fatto che tu non ti devi permettere di fare questa cosa cioè di prenderti una confidenza che tu non hai anche se io sono una persona giovane posso voglio fare questa cosa non posso e ma anche da pochi euro non posso io ti ho detto di no tu non insisterei punto i miei soldi li impiegherò per qualche altra cosa io sono veramente stufo della maleducazione della gente è una cosa che io non tollero a me una volta una persona mi disse signor rubi lei non può pretendere che le persone siano tutte educate come lei non lo posso pretendere però fa schifo questa cosa però questa cosa fa veramente schifo perché io devo entrare in un negozio e mi devo sentire giudicato dalla commessa perché io non sto aderendo a quella determinata cosa ma stiamo scherzando quando lei sta lavorando e dovrebbe in qualche modo portarmi a rispetto io non pretendo come come in molti supermercati che abbiamo nel cartellino che ho scritto ti regalo un sorriso cioè non pretendo un sorriso o le 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 svenevolate o quant'altro pretendo educazione e se è una cosa non posso farla non posso farla appunto io ho tratto questa cosa veramente io non c'ho vi giuro io non c'ho visto più perché io sono la persona che avrà 350.000 difetti non lo metto in dubbio ma la maleducazione è una cosa che io non sopporto è una cosa che mi fa veramente schifo perché non esiste che una che io debba essere ma proprio io dire ma giudicate una persona sulla base del portafoglio ma siamo pazzi cioè voi giudicate il fatto che che ne so uscite con la vostra amica e la vostra amica non si può comprare il 5 euro di maglietta perché in quel momento non può e voi mettete lì a giudicarla dicendo vabbè dai una maglietta da 5 euro ma come vi permettete scusatemi cioè ma veramente c'è gente che fa così io sono veramente indignato io adesso come ho detto farò presente questa cosa perché non faccio passare liscio nulla non faccio non faccio sconti a nessuno perché questa è una mancanza di rispetto e se capite anche voi la stessa cosa che vi trovate al bar in un negozio o dove volete voi e vi mancano di rispetto non fate passare liscio niente assolutamente no non dite sì vabbè tanto assolutamente voi andate da chi di dovere e fate presente questa cosa perché è inammissibile che la gente si prenda delle confidenze che non ha io questo dovevo dire comunque il io poi vabbè ho comprato il libro adesso poi lo leggerò sta di fatto che sono veramente molto molto incazzato e molto maleggiato da questa cosa io veramente non ho parole volevo condividere questa cosa con voi perché mi sentivo di farlo onestamente e niente io vi saluto vi auguro una buona domenica io andrò a smaltire il nervoso che addosso e ce ne vogliono di chilometri per fare una roba del genere vi saluto vi mando un grosso bacio noi ci vediamo alla prossima ciao ciao